Enrico, inizierei col chiederti da quanto tempo lavori all'università e qual è il tuo ruolo accademico oggi? Sì, allora, è facile rispondere. Il mio ruolo accademico è sempre quello dell'inizio. Io ho cominciato dagli effetti giuridici, come si suol dire, quindi come anzianità di fatto nel 1980, come ricercatore confermato. La conferma è stata data subito dopo e sono attualmente ricercatore confermato. Forse devo specificare che i primi, diciamo, vent'anni sono stato in clinica psichiatrica universitaria e quindi sotto la facoltà di medicina. E poi mi sono trasferito, per mia iniziativa, alla facoltà di psicologia, dove già avevo un insegnamento che avevo da ricercatore, diciamo, di psicologia dinamica, ho insegnato poi ho insegnato psichiatria psicodinamica e attualmente da qualche, da cinque anni insegno modelli teorici di clinica psicoanalitica, dove compare anche questo termine, clinica psicoanalitica, che tutto sommato è la punta di diamante, diciamo, è l'unico insegnamento di psicoanalisi, oltre a quello della Costantini a Padova. Dato che hai il ruolo di ricercatore, hai lavorato anche per venti anni in clinica psichiatrica, ti farò poi una domanda specifica su questi due aspetti. In questo momento volevo approfondire con te una questione che riguarda il come tu abbia vissuto e viva da psicoanalista l'università e come da universitario vivi la società di psicoanalisi. E poi, se ne hai fatto esperienza, di vissuti che in qualche modo hai avvertito come significativi per come i tuoi colleghi psicoanalisti non accademici ti abbiano percepito in passato, ti percepiscano adesso. Sì, ma io direi che in entrambe le situazioni, cioè sia come psicoanalista che lavora e insegna all'università, sia come appunto universitario della società di psicoanalisi, io credo di essere un animale in via di estinzione, nel senso che nel primo ambito, prima tu mi hai chiesto però che cosa sento io, insomma, in quella situazione, voglio dire, sono due miei ambiti di interesse, quello psicoanalitico è più preponderante, certamente all'università non faccio lo psicoanalista, però di fatto ho un'identità psicoanalitica, ho un insegnamento teorico di psicoanalisi, semmai rispetto ai colleghi universitari partecipo di meno alle attività universitarie collegiali per tutta una serie di motivi anche pratici, nel senso che consigli di facoltà, consigli di dipartimento, cambiano continuamente negli orari e quindi francamente per quanto io ho investito nell'università non c'è un motivo per cui io debba spostare i pazienti e crearmi a loro e a me stesso tutta una serie di difficoltà. Devo dire che mi piace l'insegnamento, mi piace perché c'è una grande corrispondenza da parte degli studenti sulle nostre materie, certamente l'approccio che ho è nettamente di tipo, cioè faccio l'universitario, cioè trasmetto delle conoscenze e mi pongo con loro in un modo, diciamo, come qualsiasi altro docente universitario credo che faccia. Forse l'unica cosa di diverso è che facendo lo psicoanalista, come tu ben sai, insomma, siamo anche tenuti a una certa, come dire, riservatezza sia nei comportamenti che così anche nelle nostre relazioni, per cui è chiaro che mi vivono come qualche cosa che è un essere che sta un po' al di fuori, questo sia gli studenti che i colleghi, tutto sommato. Per quel che riguarda la società di psicoanalisi, devo dire che la mia identità di psicoanalista è preponderante, quindi non ho mai trovato che mi sentissero in modo differente. Ogni tanto dicono, è voi universitari, come se fosse una categoria privilegiata e come se, credo che questo sia però dettato da eventuali piccole invidie umane o cose del genere e non da un discorso scientifico vero e proprio, insomma, ecco. E rispetto al rapporto, dato che tu facevi già, stavi sottolineando, mi sembra una specificità, una differenza, rispetto alla tua attività didattica o di insegnamento e non so se anche di formazione, se possiamo definirla così, all'università, e rispetto alla formazione ricevuta e che impartisci come analista all'interno della società di psicoanalisi. Certo, beh, due ambiti assolutamente diversi, due ambiti assolutamente diversi. Direi che è molto più facile dire che all'università il tipo di trasmissione che viene, che io faccio, come credo tutti i colleghi che si trovano nella mia posizione, è quella di trasmettere un sapere. Questo sapere non è però un sapere, diciamo che potremmo definire il sapere di una pratica, di un'esperienza dell'inconscio, come avviene nella formazione psicoanalitica, e come quella che ciascuno di noi ha fatto con l'analisi, con il training, è invece un sapere prettamente costituito da delle teorie, da testi, letture approfondite certamente, però sempre limitate a questo ambito, insomma, all'ambito teorico. Quindi la differenza credo che sia enorme. Mentre questa parte, diciamo, vista nel training psicoanalitico, sì, fa parte dei seminari, certamente fa parte dei seminari. Posso dire anche un'altra cosa, che tutto sommato mi sono accorto negli ultimi anni che il livello dei nostri candidati è decisamente inferiore a quello dei miei studenti che fanno in fondo il quarto anno della facoltà di psicologia. Assolutamente differente. Tu non sei impegnato in una formazione post lauream, che in qualche modo si riferisca alla clinica, una scuola di specialità? Intendi dire scuola di specialità. Beh, allora, prima di avere le funzioni di training, avevo insegnamenti in diverse scuole di specializzazione. E ho colto il, diciamo, questa... il fatto di avere... che mi sono state attribuite le funzioni di training per portare all'esasperazione, diciamo, in qualche modo, quello che doveva essere una regola che io pensavo fosse in qualche modo condivisa da tutti i colleghi. Lo so che l'università faceva eccezione, però si diceva che era il caso di non insegnare in altre scuole di specialità. Io mi sono dimesso dalle scuole di specialità per il semplice motivo che nelle scuole di specialità rischiavo di incontrare persone o in analisi da colleghi o anche che avrebbero potuto essere in analisi con me o fare l'analisi con me. E quindi è stata una scelta, diciamo, che io ho preso da quando ho preso le funzioni di training, quella di rinunciare, ma erano vent'anni che insegnavo le scuole di specializzazione. Insegnamenti di, appunto, di psicologia clinica, di psicoterapia, psicodinamica e cose del genere. A partire dal tuo ruolo di ricercatore, come pensi che occupi uno spazio, la ricerca, all'università, anche rispetto ai paradigmi di valutazione scientifici di riferimento, rispetto alla ricerca che tu o metti in pratica personalmente, realizzi, o viceversa osservi nella tua vita da psicoanalista, leggendo le riviste o partecipando a congressi, ritieni che la quantità e la qualità di spazio e la qualità e le caratteristiche della ricerca che tu conosci attraverso l'università e che frequenti nella società di psicoanalisi si possano sovrapporre? Sono in continuità, discontinuità, avverti incongruenze, ricchezze, povertà? Allora, nella mia esperienza, cioè io ho fatto i primi vent'anni da ricercatore facendo ricerca nell'ambito delle psicoterapie psicoanalitiche brevi. Avevo, come dire, ipotizzato un modello che avevo chiamato psicoterapia psicoanalitica breve focalizzata sulla separazione, dove, diciamo, immaginavo una sorta di analisi in miniatura, fatta però vis-à-vis, dove, diciamo, l'obiettivo della ricerca era quella di poter usare degli strumenti che nella stanza di analisi non si possono usare per valutare le trasformazioni e i cambiamenti, attraverso vari parametri, insomma. Questo lavoro l'ho fatto per tutta una serie di anni che comportava una fatica poi enorme perché occorreva sbobinare, fare, registrare, avere un'equip senza avere finanziamenti, insomma, tutta una serie di problemi. E devo dire però che quando si è più giovani queste cose si fanno anche con un certo entusiasmo. Penso che non ci sia, però, poi negli anni mi sono accorto che non è possibile, non c'è un continuum tra il laboratorio analitico, diciamo, della stanza di analisi e quello che possiamo fare in altri ambiti. Le cose che mi interessano, per cui scrivo, per cui dico che sì, continuo a fare ricerca, però entrano nel setting analitico, non passano attraverso misurazioni e dipendono, insomma, dalle considerazioni teorico-clinica che faccio, insomma, con i pazienti. Quindi ritengo che non ci sia possibilità proprio di un contatto tra questi due mondi. Mettiamoci poi anche il fatto che i lavori che si fanno all'università, da una parte, o i nostri lavori che pubblichiamo sulle riviste. Anche tra questi c'è una specie di appartengono a due mondi diversi, sono valutati in modo diverso e quindi io credo che finché non riusciamo, insomma, a farci valere come ricercatori da psicoanalisti, io credo che non ci sia possibilità di contatto tra questi due mondi. Quindi però mi sembra di capire che tu avverti che vi è una certa carenza o di linguaggio metodologica nella ricerca psicoanalitica perché possa in qualche modo dialogare con la ricerca in... Sicuramente, sicuramente. Noi dobbiamo cercare di trovare un linguaggio e dobbiamo cercare di far vedere quello che funziona nella stanza di analisi e come funziona, perché tutti noi sappiamo che c'è, che qualcosa funziona, che le trasformazioni esistono. Bion le ha chiamate trasformazioni, io le chiamerei metamorfosi, delle forme di pensiero. Però l'unico strumento che abbiamo è quello di scriverle e una nostra, diciamo, onestà intellettuale di dire esattamente quello che succede dentro di noi, nel paziente, nella stanza di analisi. Non credo che possano esserci altri strumenti. Quindi questo mi sembra di capire, anche sulla scorta di quello che dicevi prima e anche un attimo fa. Tra l'eventuale attività clinica che tu hai svolto o svolge all'università e quella che svolgi nel tuo studio professionale di psicoanalista, avverti che vi è continuità, discontinuità, sono due realtà differenti, sono in contrasto fra di loro, in conflitto fra di loro, sono complementari? No, in conflitto no. Beh, intanto devo dire che saranno circa dieci anni che io non ho più attività clinica all'università, per scelta mia a un certo punto, quando ce l'avevo io credo che ero quello che ero in quel momento anche come psicoanalista, pur non facendo analisi, però è chiaro che ero io con quel paziente anche se vis-à-vis e quindi non mi sentivo in conflitto diciamo con una supposta identità psicoanalitica, assolutamente. A un certo punto però mi sono anche un po' stufato, nel senso che riscontri da parte dell'istituzione universitaria non ce n'erano e quindi io ho chiuso un certo tipo di ambulatorio che stavo facendo. Comunque un ambulatorio diverso da quello che riguarda la tua attività di psicoanalista. Beh, è diverso nel senso che questo ambulatorio sulle psicoterapie brevi, naturalmente c'era una selezione di pazienti tutto sommato particolare, dovevano essere persone non abbienti, che avevano una certa motivazione e con le quali si aveva l'idea di poter lavorare. Quindi poi alla fin fine non avvertivo attrito, diciamo, nel mio modo di pormi. Certo, con delle variazioni importanti come la differenza tra il lettino e il vis-à-vis e quindi con i miei processi di pensiero. Ma il modo con cui io mi sentivo non era certamente conflittuale, insomma, tra la mattina e il pomeriggio. Sulla base di questo confronto che abbiamo cercato di mantenere in tutte le domande che ti ho posto, quanto senti integrata la tua identità personale e professionale nella tua vita da universitario e nella tua vita da psicoanalista? Faccio fatica a ragionare i termini di identità, nel senso che l'identità per me è un po' come una maschera, insomma. Detto questo, detto questo, allo stato attuale, allo stato attuale, dedicando tutto sommato abbastanza, sì, dedico solo le ore di insegnamento e di ricevimento studenti all'università, il mio gran tempo lo passo nel mio studio di psicoanalista. Quindi, da questo punto di vista, diciamo che l'investimento è molto più sull'attività psicoanalitica, il che non significa che non ami molto il contatto con gli studenti, le lezioni, la trasmissione del sapere, le tesi, il lavoro fatto con loro, le ricerche che devono fare, il fatto di seguirli in questo modo qua, insomma, ma non sono due identità diverse, insomma, sono sempre io, sono sempre io. Bene, ti ringrazio, per oggi ci fermiamo qui. Va bene, grazie a te. Avremo altre occasioni. Grazie a te. Grazie a te.